Marco Spangaro, una partita da super festeggiare perché vi regala il primo posto ufficiale e ovviamente l'accesso ai play-off e vi regala un po' anche una rivincita di quella che è stata la Final Four. Esatto, soprattutto la rivincita perché il posto matematico ce l'avamo già, quindi diciamo era parzialmente inimpluente questa partita, ma avevo una gran voglia di battere Biella visto che ci ha battuto due volte tra le polelli, quindi secondo me questa gran forza di rivincita c'è la giusta mentalità per il vincito. Adesso vi aspettano i play-off, direi una fase impegnativa, le prime due partite sono in casa contro Agrigento. Sì, Agrigento è una squadra, cioè io avrei preferito incontrare una delle gol, l'ho diventata sincerità perché è una squadra che viene da un altro campionato, che il suo l'ha già fatto però non avendo nulla da perdere farà una serie incredibile secondo me, quindi è il peggiore avversario che potessimo incontrare. Noi siamo consapevoli della nostra forza, abbiamo cercato una stagione incredibile, siamo primi e dobbiamo scendere in campo consapevoli di questo. La tua partita di oggi, se è stato decisivo in momenti cruciali, quando loro accorciavano un pochettino le distanze? Sì, oggi ho dovuto fare un po' del lavoro di PJ perché non c'era, è un pezzettino di PJ che ha fatto tutta la squadra secondo me, quando il tuo giocatore di punta viene a mancare, tutti devono dare qualcosa di più. Io e tutti i miei compagni la prima faccio e abbiamo provato la casa della tua partita.